L'ecografia di aderianza intestinale è una metodica che ormai è diventata fondamentale per tutti i passaggi della gestione del paziente con malattie infiammatorie croniche intestinali, dalla fase di agnostica alla fase di monitoraggio. Ha dei vantaggi sicuri e innegabili sulle metodiche di tipo invasivo come l'endoscopia e anche dei vantaggi sulla risonanza magnetica e la TAC fra cui l'assenza di radiazioni, l'assenza di preparazione intestinale e la durata molto molto ridotta. Il motivo per cui la metodica non è diffusa sul territorio nazionale è legata essenzialmente a un ridotto numero di specialisti di questa tecnica. Abbiamo molti ecografisti, molti studi ecografici ma pochi specialisti nell'ecografia delle aderianze intestinali ed è il motivo per cui il GBD oggi inizia un corso ed effetto in questi due giorni un corso proprio per formare giovani specialisti in questa metodica e che la possano poi diffondere in tutta Italia.